Adesso andiamo dal dottor Nino Cartabellota, lui è presidente della Fondazione GIM, è collegato con noi via Skype. Ecco, professore buongiorno e grazie per la sua disponibilità. Allora, abbiamo sentito proprio in questa intervista, io non so se lei è riuscito ad ascoltarla, e comunque insomma... Solo la parte finale. Cosa? Solo la parte finale, ma siamo perfettamente in linea con quello che pensa Galli. Oh, perfetto, quindi solo la parte finale. Noi abbiamo intanto capito che, insomma, ancora non siamo in grado di capire quando arriverà il picco. Però, insomma, cominciamo dai numeri, non abbiamo molto tempo. Noi dipendiamo adesso dai numeri da un po' di tempo a questa parte, sarà così ancora per un po'. Ma qual è la realtà? Cosa ci dicono questi numeri? E poi abbiamo sentito dire, anche dal professore, dal direttore Galli, collegato con Tonia Cartolano, ci sono molte più persone infette, magari asintomatiche. Lui ha detto che è Lombardia, ma questa immagino che sia una situazione che riguarda un po' tutta l'Italia. È così? Assolutamente sì. I numeri, al di là di quelli assoluti che ci fanno spaventare ogni sera in occasione della conferenza stampa della protezione civile, dal punto di vista epidemiologico, anche per le previsioni future, vanno monitorate con quello che è l'incremento percentuale dei casi al giorno. Noi a oggi siamo intorno al 15%. Cosa significa? Significa che ogni giorno il numero dei casi rispetto al giorno precedente aumenta del 15% circa. Quindi più o meno in sei giorni al momento c'è un raddoppiamento. L'efficacia delle misure di distanziamento sociale si monitora attraverso questo numero. Quando avremo sconfitto il virus questo numero sarà pari a zero. Ma come già ha giustamente detto il professor Galli, noi non possiamo prevedere nessuna tipologia di picco, perché in questo momento il virus si sta diffondendo in Italia in aree diverse, con tempi diversi, con picchi diversi, che sono condizionati da vari aspetti, sia di tipo casuale, sia di tipo assistenziale, sia di aderenza della popolazione alle misure di distanziamento sociale. Quindi la domanda che tutti i giornalisti fanno, ma anche tutta la popolazione, quando arriverà il picco in Italia, noi in Italia avremo diversi picchi, imposti diversi del paese, ma abbiamo probabilmente soltanto un elemento per poterlo contrastare, quello del distanziamento sociale. Poi la Lombardia, in particolare la zona di Bergamo, ha delle emergenze ospedaliere di altra natura che riconoscono responsabilità per azioni non prese, su cui non è il momento di fare polemiche, però è inevitabile che la gestione dell'emergenza coronavirus in Italia non è la stessa nelle varie aree del paese. E' perché le previsioni sono differenziate. L'unica raccomandazione che bisogna fare agli italiani è stare a casa. Senta professore, un'ultima domanda, le chiedo una risposta brevissima, ma ad oggi si contano già nuovi focolai? Non lo so, guardiamo a fondi, per esempio in provincia di Latina è arrivata un'ordinanza per la chiusura, ma insomma ci sono situazioni un po' sparse nel paese. Questi sono nuovi focolai? Ma guardi, la definizione di focolai specifici è giusto che provenga dalle istituzioni. Noi in questo momento abbiamo un virus diffuso in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo e la percentuale di crescita dei casi nelle varie aree del paese va attentamente monitorata per decidere se ci sono delle misure estreme da prendere in considerazione. Solo un commento, la decisione di non chiudere Alzano Lombardo e l'altro comune vicino a Bergamo oggi la stiamo pagando molto cara. Ci sono state sicuramente dietro dei grandi interessi economici a non effettuare questo tipo di operazione, ma oggi non riusciamo a trovare nemmeno posto per i morti. Insomma anche secondo lei oggi bisognerebbe intervenire con misure più radicali? Ma il problema è che noi non abbiamo effettuato nessun lockdown totale. La Cina ci ha messo due mesi per azzerare quella curva che abbiamo visto poco fa con delle misure che sono state attuate in un regime autoritario impossibile in Italia. Allora da un lato c'è qualcosa che non si può fare dal punto di vista della limitazione delle responsabilità individuali ma dall'altro ci sono delle cose che si possono fare perché chiudere tutto significa chiudere tutto perché le mezze misure non servono e soprattutto ricordo ai politici, ai cittadini, ai media che noi oggi contiamo i numeri delle cose che abbiamo fatto o non abbiamo fatto 14-21 giorni fa e gli effetti di quelle che faremo non faremo oggi li vedremo tra 14-21 giorni. Quindi state a casa, portate pazienza e soprattutto ne invito alla politica cercate di prendere decisioni univoche per tutto il Paese perché il tira e molla in questo momento sta creando disorientamento e facilita l'avanzamento del virus. Grazie professore, grazie a professor Cartabellotta per essere stato con noi le auguro un buon lavoro e una buona giornata io mi fermo qui, andiamo in pubblicità grazie a tutti